Il voto del Parlamento britannico aumenta il rischio di un'uscita disordinata del Regno Unito dall'Europa. È molto chiara la posizione del Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker all'indomani del mandato conferito dai parlamentari britannici alla Premier Theresa May di rivedere l'intesa raggiunta con l'Unione europea e definita da Bruxelles non rinegoziabile. Presidente, signori e signori, lasciatemi dire chiaramente che il voto di ieri ha aumentato il rischio di un ritiro disordinato ha detto Juncker agli europarlamentari. Dobbiamo essere pronti a tutti gli scenari possibili, compreso il peggiore. Già il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, attraverso un suo portavoce, era stato lapidario al proposito. Nessuna intenzione di riaprire le trattative da parte dell'Europa. La questione Brexit si fa sempre più spinosa.